Il coraggio delle donne iraniane sta facendo il giro del mondo. Mai negli ultimi 40 anni il regime degli Ayatollah aveva tremato tanto come in questi due mesi. Il pugno di ferro sulle proteste, gli arresti, i morti in piazza non sono riusciti a fermare le richieste di democrazia. Quello che sta accadendo oggi in Iran era impensabile fino a poco fa e tutto è cominciato da una ragazza uccisa per un velo. Nuova stagione di Today, sabato alle 15 e 15. Ciao!